Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Silodato Gesù Cristo Cari bambini, dopo i doveri verso Dio che ci vengono imposti nei tre primi comandamenti e i doveri verso i genitori e superiori che formano l'oggetto del quarto comandamento Il Signore, negli altri precetti della sua legge, passa a proibirci qualunque danno che si possa reccare al prossimo, sia nella vita, sia nell'onestà, sia nelle sostanze, sia nella reputazione. E prima di tutto il Signore ci vieta di offendere, ossia di reccare danno in qualunque modo il nostro prossimo nella vita, che tra i beni naturali è il più grande e prezioso. Non ammazzare, non uccidere, non commettere omicidio Questo è il quinto comandamento E li dice nel quinto comandamento E con questa, cioè non commettere omicidio E con questa parola intende proibirci severamente non solo la uccisione del prossimo, ma anche ogni specie di violenza e di fessazione personale, Anzi, tutto ciò che può aprire la via a tali eccessi, per esempio l'ira. L'omicidio è togliere ingiustamente e volontariamente la vita naturale del prossimo. La vita naturale del prossimo si può considerare in due fasi diversi, prima della nascita e dopo la nascita. Anche il bambino, prima di venire alla luce, ha diritto all'esistenza, Tanto maggior diritto in quanto si trova nell'assoluta impotenza di difendersi e di chiedere aiuto. Il toglierli, quindi la vita per mezzo dell'aborto, è un vero delitto che non è mai permesso per nessuna ragione, neppure per salvare l'onore, neppure per evitare uno scandalo. E di questo delitto si rendono colpevoli anche coloro che vi cooperano. o aiutano i medici e danno in qualche modo la sua collaborazione. Allora, il quinto comandamento ci proibisce di uccidere, sia prima della nascita, sia dopo la nascita. Ma di solito, quando si parla di non uccidere, si intende l'uccisione dell'uomo già nato. E togliere la vita, cioè quando si toglie la vita di una persona in età adulta. Potrebbe essere anche quando si, di un bambino, ma quando c'è l'uccisione di un bambino già nato, si chiama infanticidio. Quando invece si uccide un fratello o una sorella, si chiama fratricidio. Quando si uccide un re o un'autorità, si chiama regicidio. E tra tutti gli omicidi, il più grave nella storia è stato il Deicidio, cioè il peccato che i giudei hanno fatto uccidendo Dio, il figlio di Dio, Gesù Cristo. Quello è stato tra tutti i crimini il più grave in assoluto, il Deicidio. Allora, oggi vogliamo vedere anche un altro tipo di omicidio che è l'uccisione di se stesso. Cioè quando una persona toglie la propria vita. Si chiama suicidio. Il quinto comandamento, non ammazzare, ci proibisce il suicidio e il duello. Voi conoscete già la figura sinistra, tristissima, orrenda di Giuda. Giuda era un apostolo e fu scelto da nostro Signore, ma non corrispose alla grazia di Dio e dopo aver tradito Gesù, preso dai remorsi, disperato, senza feducia, speranza nel perdono di Gesù Cristo, andò errando nei boschi finché si uccise impiccandosi a un albero. Così, al peccato del tradimento del figlio di Dio unì il peccato del suicidio frutto della sua disperazione. Suicidarsi vuol dire togliersi la vita ed è peccato come uccidere un altro perché la vita nostra, come quella degli altri, non appartiene a noi, ma a Dio e non possiamo troncarne il filo quando vogliamo. Il suicidio è anche peccato di disperazione che toglie all'anima la possibilità di pentirsi e di salvarsi. Per questo la Santa Chiesa priva il suicida volontario della sepoltura ecclesiastica, cioè dei suoi ritti funebri. per farci capire quanto è grave questo peccato. Il suicida, il corpo del suicida non può entrare nemmeno in chiesa. Il quinto comandamento proibisce anche il duello, ossia il combattimento a sangue tra due uomini perché così facendo essi si espongono al pericolo di uccidere, di essere uccisi e di ferirsi gravemente. E tutto questo per vendetta privata che non è mai lecita e con disprezzo della legge e della giustizia pubblica ordinata da Dio. Perciò la Chiesa esclude da sé i duellanti e chi volontariamente assiste al duello. Una volta per i duellanti e per chi assisteva al duello c'era la gravissima pena della scomunica, cioè chi due lava era scomunicato, allontanato, tagliato dal corpo mistico di Cristo. Ricordiamo sempre il detto divino tutto coloro che si serviranno della spada periranno di spada. Cari bambini, come si arriva a tanto peccato, a tanta cecità, con l'ira. Allora, dobbiamo imitare Gesù mite e umile di cuore. Si l'ho dato a Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org di Puglia.org a Gesù Cristo. A Gesù Cristo. A Gesù Cristo. A Gesù Cristo. Grazie a tutti.